Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo a quanto accaduto sabato scorso a Gela. Mani sconosciute hanno collocato cumuli di spazzatura lungo via Rio de Janeiro e viale Indipendenza. Per la giunta comunale si tratta di un attacco vero e proprio. Il sindaco Domenico Messinese si rivolge alle forze dell'ordine. C'è un coro unanime da parte di alcuni consiglieri comunali. Non possiamo lasciare sola un'amministrazione che pur avendo tanti difetti ha il merito, dicono, di avere la volontà di cercare di risolvere i problemi che affliggono la nostra città da sempre. Vediamo. Un atto di protesta, da qualsiasi prospettiva la si vede, quanto accaduto sabato pomeriggio scorso è inqualificabile. Non c'è alcuna giustificazione. Il coro di condanna è unanime. I rifiuti sparsi sulla strada in via Rio de Janeiro e in viale Indipendenza rappresentano un vero e proprio pugno allo stomaco ad un'intera collettività. Alcuni consiglieri comunali hanno già condannato l'azione commessa da mani ignote. Non possiamo lasciare sola un'amministrazione che pur avendo tanti difetti ha il merito di avere la volontà di cercare di risolvere problemi che affliggono la nostra città da sempre. Hanno detto Guido Sitacusa, Sandra Bennici, Carmelo Casano, Sara Cavallo e Giuseppe Guastella. Per questa ragione sono stati invitati il consiglio comunale e la città a non rimanere indifferenti a reagire come hanno sempre fatto, dimostrando che i gialesi non sono tutti uguali. Sabato scorso sul posto si sono immediatamente presentati il sindaco Domenico Mersinese e il suo vice Simone Siciliano. Un atto criminale dove nella difficoltà, riuscendo in queste settimane con la discarica chiusa a mantenere il decoro, ora che stiamo riuscendo a ritornare alla normalità qualcuno ha pensato bene di utilizzare i rifiuti creando un pericolo per la circolazione. È un atto intimidatore, è un atto mafioso. La cosa più grave è che in un centro abitato nessuno ha visto nulla, in un paese omertoso che poi praticamente diciamo come dobbiamo crescere. Purtroppo sempre quattro stupidi riescono a rovinare un'intera collettività, un'intera città. Questo è un atto che noi sicuramente non possiamo accettare. Se qualcuno lo mette come una stile all'amministrazione siamo pronti ad accoglierla, ma sicuramente questo è un atto criminale e come tale deve essere messo in evidenza. Vedremo quali saranno i passi da fare nei prossimi giorni. Abbiamo raggiunto l'apice dell'inciviltà di questo territorio. Il comportamento di un gruppo di barbari che ha deciso di devastare un'intera strada spargendo rifiuti ovunque. E' chiaro che l'operazione è un'operazione organizzata su cui non si avrà nessun tipo di tolleranza. Avvieremo le denunce del caso, le indagini, perché i comportamenti di questo tipo non sono tollerabili. Le sfide all'amministrazione sono delle sfide perse in partenza. Nessun comportamento di questo tipo può essere accettato o accettabile da questa amministrazione. Solo chi non è degno di essere gelese può assumere comportamenti incivili e compiere atti di assoluta aviltà. Gesto che noi, prima ancora di essere rappresentanti del popolo, da gelesi condanniamo con fermezza. Lo dice il consigliere comunale di Forza Italia, Salvatore Scerra. Noi crediamo che sia stato un attacco frontale alle istituzioni comunali. Quasi una sfida. Una sfida però che non ha vincitori ma un unico perdente, il gelese. Occorre dialogo adesso. Occorre approvare subito il regolamento che possa finalmente invogliare i cittadini a stare dalla nostra parte, a differenziare, a risparmiare su latari, ma soprattutto punire chi non rispetta le regole. L'amministrazione cambia passo e si attivi da subito al fine di rimediare a questo fenomeno negativo. Ispettori ambientali, persone all'interno e Polizia Municipale potranno essere delle sentinelle per cercare di reprimere questa incresciosa abitudine non solo nei confronti di questi cittadini ma anche della società che gestisce i rifiuti in città, monitorando la regolarità del servizio. Una sfida che va raccolta e vinta a tutela della cittadinanza che orgogliosamente si sente gelese. Per l'esponente di Forza Italia e Scerra, più controlli uguale migliore servizio, uguale maggiori risparmi, uguale riduzione tari. Intanto il Consigliere Comunale dell'Udc, Giovanni Vanebianco, chiede alla Giunta quali interventi sta mettendo in atto il merito alla presenza di rifiuti a Manfria, compresa la pulizia delle spiagge. Anche Giovanni Vanebianco stigmatizza quanto accaduto sabato scorso. Sentiamo. Giovanni Vanebianco, quanto accaduto sabato scorso in Viana Dipendenza in via Rio de Janeiro con cumuli di spazzatura ovunque, lasciati da mani ignote. Se vi lascio senza parole anche da parte vostra, c'è una condanna per un gesto che non ha una giustificazione vera e propria? No, è un gesto che non può avere nessun tipo di giustificazione. Sono atteggiamenti che non vanno bene, sicuramente da condannare, e che chiaramente non possono trovare alcun tipo di giustificazione, anche se l'emergenza di questi giorni, da un punto di vista di raccolta di rifiuti, era sotto gli occhi di tutti. È un quartiere residenziale così popoloso come quello di Contratascavone, chiaramente l'hanno avuto in maniera molto più accentuata. E quindi è vero che è una situazione, tra l'altro, indollerabile, perché si potrebbe da diversi giorni, e forse i residenti pensavano che nel momento in cui la discarica di Timpazzo era stata riaperta, magari avrebbero avuto levata l'immondizia davanti ai loro quartieri, però chiaramente questi gesti non possono che essere condannati. Voi come Udc però avete chiesto, avete interrogato l'amministrazione comunale sull'ordientico problema che si verifica a Manfria. Sostanzialmente voi cose chiedete alla Giunta? Io veramente avevo fatto una richiesta di accesso agli atti dal 7 di luglio, per sapere tutti gli ordini di servizio che erano stati disposti per quanto riguarda la raccolta differenziata a Manfria, lo spazzamento in questa località balneare e in questa frazione di Gela, e anche in relazione alla pulizia delle spiagge, che secondo il capitolato dovrebbe essere quotidiana, ma da quello che dicono invece i residenti avviene poche volte alla settimana. E alla luce di quelle che sono stati gli invii delle bollette per quanto riguarda la tassa dei rifiuti, io chiedo di sapere all'amministrazione in che modo venga svolta la raccolta dei rifiuti presso queste località, queste frazioni di Gela, e se la richiesta della tassa è avvenuta in maniera intera oppure proporzionata al servizio che viene effettuato. E l'amministrazione comunale ha risposto alla sua interrogazione? Come purtroppo accade da un po' di tempo a questa parte, l'interrogazione verrà trattata ad agosto, martedì 3 agosto, però nello stesso tempo io non ricevo nessun tipo di possibilità di acquisire gli atti in questo senso, nonostante io faccia sempre formale richiesta di quello che ho bisogno. Cambiamo argomento. Un incendio doloso la scorsa notte in via Brasile a Gela, poco dopo le 4, lo sconosciuti hanno piccato le fiamme ad un alfa 147 appartenente ad un disoccupato di 27 anni, indagano i carabinieri. Non ce l'ha fatta Lina Bennici, 59 anni, moglie dell'allenatore Fofo Ammirata. La signora, ammalata da un paio di anni, si è spenta nelle ultime ore, ha lottato con tutte le sue forze, sostenuta dalle figlie e dal marito. Lavorava la clinica Santa Barbara, domani alle 16 nella chiesa San Giovanni Evangelista si svolgeranno i funerali. La società Gela Calcio, il presidente Angelo Tuccio, l'allenatore Salvatore Brucculeri, il direttore sportivo Giovanni Martello, la dirigenza e tutti gli atleti sono vicini al tecnico Fofo Ammirata per la prematura scomparsa della cara moglie Lina. In questo momento di grande dolore, l'intero gruppo biancazzurro sente il bisogno di stringersi forte attorno alle famiglie Ammirata e Bennici, con voglianze anche da parte della nostra redazione. Cerimonia di insediamento nell'aulamagna Saetta Livatino del Palazzo di Giustizia del nuovo procuratore capo della Repubblica, Medeo Bertone, negli ultimi quattro anni alla direzione distrettuale antimafia di Catania, che prende così ufficialmente il posto di Sergio Olari, oggi procuratore generale, dopo essere stato nominato a larga maggioranza dal plenum del CSM, lo scorso 16 giugno. 17 i voti ottenuti contro i 6 andati al concorrente Marcello Viola, procuratore a Trapani. A dare il benvenuto durante la cerimonia al procuratore capo e a leggere la formula di rito di insediamento, il presidente del Tribunale, Daniele Marraffa, che ha posto la firma nei documenti ufficiali assieme al diretto interessato e al diaf Sava, procuratore capo facente funzione negli ultimi 11 mesi. Presenti per l'occasione i vertici del Palazzo di Giustizia e numerose autorità civili e militari che, con un caloroso applauso, hanno voluto dare il benvenuto al procuratore capo in magistratura dal 1979. Un ritorno per Bertone a Caltanissetta, dove ha svolto le funzioni di procuratore aggiunto, occupandosi di intagini importanti, a cominciare da quelle sulle stragi di mafia del 92. Sono ovviamente contento di ritornare a Caltanissetta, dove ho lavorato per sei anni e dove ho trovato un ambiente splendido che spero di ritrovare nelle stesse condizioni oggi, dopo quattro anni di assenza dalla città. Certamente la procura di Caltanissetta, per la sua competenza ex articolo 11 del codice di presidura penale, ha un notevole rilievo, ma non soltanto per questo, ma per altre indagini che si stanno svolgendo. Ovviamente l'attenzione mediatica è giustamente riposta sulle indagini delle stragi, sui dibattimenti che stanno per concludersi, che ovviamente seguiremo anche negli ulteriori eventuali approfondimenti con la massima attenzione possibile. La lotta alla mafia è una priorità, ma non esclude l'attenzione dovuta ad altre forme di illegalità che sono diffuse nel territorio e cercheremo con le nostre forze, che non sono molte, di reprimere. Chiudere la corte d'appello e il suo impegno su questo? Questo è un discorso che si va sentendo e ripetendo da molto tempo. Io mi auguro che chi assuma queste decisioni abbia pienamente la consapevolezza del valore strategico che la procura di Caltanissetta ha svolto e dovrà continuare a svolgere. Grazie. Si darà nei prossimi 27, 28 e 29 luglio il corso di formazione di primo e secondo livello rivolto ai volontari delle associazioni aderenti al Coresa, il coordinamento regionale sanità. L'evento è organizzato da Pubblica Assistenza Procivis, Protezione Civile di Gela, in collaborazione con l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana e si darà nei locali di Via Ossidiana al numero 23. E nell'ambito del percorso formativo Anche tu puoi salvare una vita, l'organizzazione di volontariato Giubbe d'Italia, coordinata da Orazio Coccomini, organizza un corso di formazione come esecutore di BLSD. L'iniziativa si svolgerà sabato 30 luglio con inizio alle 9 presso l'aula formazione della sede operativa di Via Falcone in Contrada Brucazzi. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 28 luglio. Gli interessati per informazioni ed iscrizioni possono contattare il numero telefonico 0 933 91 44 19 o inviare un'e-mail a giubbeditaliagela.hotmail.com C'è anche una pagina Facebook Giubbe d'Italia Gela. E adesso parliamo della conferenza stampa che si svolta oggi nell'aula dei gruppi consigliari a Gela. Si è parlato della gestione del Vincenzo Presti. Sentiamo. Abbiamo voluto accendere i fari su una realtà complessa che esula le aspettative di qualcuno che sono assolutamente legittime. Non era una riunione contro ma era una riunione per. Il calcio è il Gela Calcio ma non solo il Gela Calcio. Ci sono delle società, oggi sono venute, queste società in Consiglio Comunale hanno raccontato quelle che sono le loro esigenze hanno voluto rappresentare quelle che sono le loro prospettive. Secondo me su questa vicenda è necessario un attimo di calma guardare bene le cose ma soprattutto cercare di lavorare per obiettivi. Oggi l'obiettivo è quello di garantire a tutti un'adeguata sistemazione. Il risalto mediatico di una vicenda che era esclusivamente consigliare che partiva dal rifacimento del Manderboso che invece è finita con l'uso esclusivo del Vincenzo Presti. Noi l'abbiamo interpretato come una fuga in avanti una fuga in avanti che non va bene innanzitutto a Gela Calcio. Noi ci troviamo davanti ad una dichiarazione inserita nella mozione che è praticamente discriminatoria sia per quanto riguarda l'utilizzo sia per quanto riguarda anche l'affluenza di qualsiasi soggetto che può usufruire di un impianto pubblico. Ci sono le norme comunitarie, le norme nazionali e anche praticamente i decreti regionali. Dicono semplicemente che un bene pubblico che sia l'impianto sportivo, nel quel caso il Vincenzo Presti può essere dato in gestione, chiamiamolo così, o in concessione d'uso a qualsiasi associazione sportiva che sia iscritta praticamente al CONE alla Federazione Italiana di Gioco Calcio. Dice le modalità quali sono? Le modalità sono soltanto due, non ce ne sono terze o quarte. La prima che praticamente è l'affido in servizio quindi con gara d'evidenza pubblica dove questa viene a titolo oneroso significa che l'affidatario deve corrispondere al comune una determinata somma che viene stabilita praticamente in apposito regolamento e appunto poi può riversare praticamente oppure può recuperare diciamo questa somma chiedendo praticamente ad eventuali utilizzatori il pagamento di un canone o di una tariffa ma è già prestabilita che tra l'altro ci sono anche dei canoni che vengono già prestabiliti alle norme nazionali non sono cose che bisogna dove ci si può discostare più di tanto. Le faccio un esempio un campo qualsiasi un soggetto, un'associazione che deve fare una gara ufficiale si parla dalle 50 alle 125 euro di imposta di tributo, di cosa in ogni caso la cosa molto interessante ci sono determinati comuni d'Italia che già lo hanno adottato che i soggetti, le associazioni ad esempio la mia va a pagare 125 euro di contributo per giocare al Vincenzo Presti il comune fine stagione può benissimo consegnare la stessa somma riversare la stessa somma tramite i servizi sociali perché abbiamo fatto un'attività sociale non abbiamo fatto né speculazione né redditività non abbiamo fatto nulla altro che togliere i ragazzi da altre distrazioni E in edicola il Corriere di Gela settimanale indipendente di attualità politica, cultura e sport a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro sul fronte della legge di riforma dell'ex provincia la lotta si fa dura da una parte ai comitati referendari che annunciano ricorsi al Tarra qualora si dovessero indire le elezioni per le nuove rappresentanze degli enti intermedi prima che vengano definiti i nuovi confini territoriali e dall'altra parte l'ARS che ha nuovamente rispedito al mittente ovvero al governatore Crocetta il relativo decreto e questo è un argomento di apertura della prima pagina del giornale sullo stesso argomento Giulio Cordaro che nella sua rubrica politicamente scorretto manda dire a Crocetta come dovrebbe comportarsi per rendere giustizia ai comuni tra cui la sua Gela che hanno democraticamente espresso la volontà di lasciare Caltanissetta per aderire alla città metropolitana di Catania in prima pagina anche i richiami delle ultime tre sedute consigliari in una delle quali l'Assemblea ha approvato una delibera di indirizzo alla Giunta Mersinese di concedere in esclusiva la gestione del campo sportivo comunale al Gela Calcio all'interno pagine ricche di articoli e servizi di attualità costume e cultura a firma di Gianni Viricadaula Lucrezia Ferro Cinzia Sciagura e Marco Di Dio c'è la pagina delle aste giudiziarie e lo sport con i servizi di Orazio a Comando su calcio e a Tredica Leggera in ultima la pagina degli annunci economici gratuiti con questo numero il Corriere di Gela va in ferie e tornerà in edicola il 20 del mese prossimo primo sabato dopo Ferragosto ed in conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle 21 con 10 domande 10 nostro ospite Sragetano Lorefice ideatore del Festival del Golfo vi ricordiamo che le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18 ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità seconda parte del telegiornale di Eccoci è prevista fino al 30 luglio prossimo presso l'ospedale Vittorio Emanuele di Gela la presenza di un camper all'interno del quale sarà effettuata gratuitamente la mammografia a tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni ci si potrà presentare anche senza specifico invito all'esame infatti verrà effettuato gratuitamente e ugualmente contemporaneamente sarà consegnato ai utenti il kit per eseguire lo screening al colon l'iniziativa è dell'azienda sanitaria provinciale 2 di Caltanissetta che promuove l'importanza della prevenzione per tutte quelle patologie dalle quali si può guarire con una tempestiva diagnosi corretta ad accogliere le donne che si sottoporranno ai controlli ci saranno i volontari della FARC che affiancheranno gli operatori dell'ASPA è prevista per oggi alle 20.30 nei locali del club Vela sul lungomare Federico II di Svevia Gela la presentazione della romanzo Sicilia My Love di Enzo Randazzo l'iniziativa porta la firma del club per l'UNESCO col patroginio del Lions Club di Gela e del Lions Club del Golfo di Gela coordinerà i lavori Francesco Pira docente di comunicazione all'Università degli Studi di Messina è sceso per strada con un coltello da cucina della lunghezza di 35 centimetri dietro la schiena seminando il panico tra i passanti e residenti della zona e quando è successo nelle prime ore di domenica pomeriggio in Viale Sicilia immediato l'allarme dei residenti che preoccupati per gli ultimi attentati terroristici hanno allertato polizie e carabinieri che si sono precipitati sul posto l'uomo un indiano di 28 anni alla vista dei poliziotti della sezione volanti e dei carabinieri del nucleo radiomobile ha gettato il coltello giustificandosi che poco prima mentre dormiva nel suo appartamento aveva sentito dei strani rumori provenire dal balcone temendo che qualcuno volesse rubare a casa sua si è armato di coltello ed è sceso per strada per fare il giro del palazzo nel frattempo un video girato dal balcone di un abitante della zona che invitava a prestare la massima attenzione ha fatto il giro del web sentito il racconto del giovane le forze dell'ordine hanno anche perquisito il suo appartamento non rinvenendo nulla di compromettente o indizi da far ricondurre all'estremismo religioso l'indiano è stato comunque denunciato dai carabinieri per porto di arma senza giustificato motivo i carabinieri precisano che non risulta che lo straniero abbia minacciato nessuno con l'arma sempre i carabinieri venerdì pomeriggio hanno tratto in arresto in flagranza di reato per evasione tre pakistani arrestati giovedì sera per ris sottoposti ai domiciliari nella comunità del progetto vita in attesa del giudizio direttissimo si tratta di Khalid Hussein Adnan Raouf Abdul e Abdul Aziz tutti richiedenti asilo i quali dopo essersi allontanati dalla comunità sono stati trovati dai carabinieri mentre si aggiravano a piedi in via Salvatore Averna tratti in arresto i tre pakistani sono stati ristretti al malaspina è stato sorpreso dai poliziotti venerdì pomeriggio mentre stava trafugando materiale edile all'interno del cantiere della ditta di costruzione di via Rochester sottoposto a confisca in manette in flagranza di reato il 25enne nisseno Cristian Michele Guagliardo già con precedenti per furto aggravato violazione dei sigilli e danneggiamento ha occultato due stecche di hashish avvolte nel cielo fan del peso di 18 grammi per poi passarle di nascosto al compagno detenuto al carcere di San Cataldo una mossa che non è sfuggita agli agenti della polizia penitenziaria che hanno fermato la donna una 32enne di Catania perquisita il detenuto rinvenendo la sostanza stupefacente la donna su disposizione della procura di Caltanissette è stata tratta in arresto e condotta nella sezione femminile del carcere di Agrigenta autorità giudiziaria ed è caccia al pirata della strada che nella notte tra venerdì e sabato ha investito tre auto parcheggiate in Viale Trieste per poi fuggire danneggiate una Fiat Barchetta una minicar un'Alfa Giulietta sul posto sono intervenuti i carabinieri che si stanno occupando del caso e i poliziotti della sezione volanti per la viabilità proseguono le iniziative inserite nel cartellone l'estate gelese con la musica colta promossa dall'associazione Amici della musica Navarra di Gela col patrocinio del comune domenica 31 luglio alle 21 e 15 nell'ex monastero delle Benedettine è previsto il concerto lirico del trio Angela Curiale soprano Francesco Cusumano tenore e Giovanni Raddino pianoforte il movimento giovanile San Francesco di Gela conclusione delle attività estive del Grest ha organizzato per il 30 e 31 luglio due spettacoli conclusivi sabato 30 luglio alle 21 in piazza San Francesco si trarà lo spettacolo conclusivo della categoria Animation Group 70 ragazzi di età compresa tra i 13 e i 15 anni divisi in due squadre che ogni giovedì durante l'attività estiva del Grest si sono sfidati in discipline come canto e danza saranno giudicati da una giuria d'eccezione composta da una sezione tecnica e una sezione stampa affiancate da tutti i giurati che ogni giovedì hanno valutato le esibizioni dei ragazzi ospite d'eccezione e presidente di giuria sarà Christian Imparato vincitore della prima edizione di Io Canto noto talent show di Canale 5 lo scopo della sfida oltre a quello di decretare la squadra vincitrice è quello di far emergere le capacità e le attitudini dei ragazzi durante la serata di sabato verranno premiate le otto squadre che hanno partecipato al torneo di calcetto organizzato sempre nel contesto delle attività estive delle greste e che si è giocato al campetto Gueli presso l'oratorio domenica 31 luglio alle 19 si celebrerà l'eucaristia in piazza San Francesco e subito dopo intorno alle 21 inizierà lo spettacolo dei grestini la serata si concluderà con la musica che il DJ Graziano Lacognata selezionerà per tutti ragazzi bambini e genitori sempre in piazza San Francesco per entrambe le serate è prevista la presenza dell'amministrazione comunale nella persona del sindaco Domenico Messinese e degli assessori lo sport calcio lieve lussazione alla spalla per Giuliano Alma durante una normale seduta di allenamento nella ritiro di Zafferana e Trea il giocatore biancazzurro è stato immediatamente visitato dallo staff medico del Gela e tornerà a disposizione del tecnico Bruccoleri tra 15 giorni dopo le cure mediche alle quali si sottoporrà intanto il club biancazzurro rinnova il proprio settore giovanile con due importanti arrivi il nuovo responsabile del settore giovanile è Luigi Rivecchio mentre Alessio Catania è il nuovo allenatore della Juniors bianco-azzurra da Verdi è scattata ne abbiamo già dato notizia nei vari giornali della campagna abbonamenti e come ogni anno la società presieduta ad Angelo Tuccio ha realizzato uno spot per invogliare i tifosi ad acquistare l'abbonamento vediamo insieme lo spot del Gela Calcio il Gela Calcio per invogliare Il primo trofeo podistico 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 Il primo trofeo podistico